Marten, partiamo dal finale, da quel cambio campo e poi non siete più riusciti a fare punti. Sì, sicuramente lì perdiamo la partita e sono successe tantissime cose in queste partite, buone, molto brutte e più uno incastrati. Non siamo stati concreti a concluderla, abbiamo avuto diverse occasioni, soprattutto in attacco, sicuramente bravo loro, il battitore lì ha messo tutta la pressione con noi, non siamo sicuramente stati bravi a chiuderla, ci vuole, se vuoi vincere queste partite, se vuoi essere una squadra come Modena devi lì cambiare questa serie e lì secondo me vincere la partita, perché la rimonta e c'è stata. Cosa c'è secondo te che non funziona, che non ha funzionato magari anche nel finale di primo set, perché non sono un tie-back? Ma non era la finale del primo set, era la parte in mezzo secondo me, partiamo 4-0, poi dopo loro fanno delle cose magari buone e non stiamo capendo che per noi ogni partito, ogni set, ogni punto è in finale, non lo stiamo capendo. Anche se l'approccio era quello, c'è nel senso 4-0, parti bene, poi dopo succedono due o tre cose, un punto contro, magari un errore, magari una cosa buona loro che in Superlega capita, e dopo ci spegniamo, non è la prima volta. Grazie. Grazie. Grazie.